amici di oreca news bentornati oggi siamo a torre del greco alle porte di napoli e ci troviamo a villa torlo siamo qui per inaugurare il nuovo training center di lavazza e ci troviamo con il country manager italia maurizio cozzolino bentornato maurizio grazie fabio grazie mille a tutti maurizio in qualità di country manager oggi sei qui per dare anche la tua benedizione commerciale a quello che è di fatto uno dei più importanti training center italiani di lavazza assolutamente sì la presenza naturalmente serve sia per testimoniare quanto importante è questo territorio per lavazza ma anche naturalmente quanto importante è l'attività del training center quali sono le attività di un training center le attività di un training center sono fondamentali innanzitutto per noi si tratta di formazione formazione rivel rivolta sia all'interno che all'esterno ovviamente noi stessi che ci occupiamo di caffè dalla mattina alla sera non finiamo mai di imparare la stessa cosa vale per i nostri clienti abbiamo otto strutture a livello nazionale oltre 50 a livello mondiale questo è fondamentale per un prodotto di trasformazione come il caffè perché la lavorazione della materia prima è fondamentale per il risultato finale della qualità in tazza e quindi per quello che il consumatore finale percepisce rispetto al brand lavazza ne parleremo ora con uno dei trainer di questo training center colui che di fatto guida tutta l'area campania abruzzo morise basilicata e mi pare di aver capito anche puglia e tra poco andremo a chiedergli con domande più dettagliate perché questo training center e con esattezza quali sono le funzioni principali questo sicuramente e questo training center in particolare molto importante per noi perché stiamo parlando di un territorio che ha una profonda cultura del caffè una cultura del caffè peculiare dove il caffè parte anche diciamo della dimensione sociale del territorio e quindi inserirci con rispetto del territorio all'interno di quella che è la cultura specifica del caffè per questo territorio è per noi fondamentale per entrare in contatto con i nostri clienti e con i nostri consumatori maurizio grazie e prima di andar via io devo chiederti quali sono le aspettative di questa location che di fatto è straordinariamente bella guarda l'aspettativa è molto semplice avere sempre più clienti e sempre più clienti soddisfatti grazie mille per questa domanda fabio maurizio grazie amici ora è il momento di chiedere in modo più dettagliato che cosa faranno qui in questo training center a torre del greco alle porte di napoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti